ciao a tutti grandissimi sono qua col mitico luca oggi parliamo di zenith defy non ti sbagli mai comunque io sono già venuto armato da casa e presentiamo molto volentieri degli orologi secondo me stupendi che sono i nuovi diver da 42 e mezzo in titanio belli tosti dettagli da capogiro e poi già che c'eravamo come contorno c'erano questi due qua scheletrati che te so che luca è un debole per questa roba qua per fortuna direi anche io perché questa qui è roba giustissima ora abbiamo detto ve li facciamo vedere perché alla fine sono oggetti che hanno un listino più o meno sovrapponibile uno è estremo un diverone l'altro un po per tutti i giorni comunque si possono comprare tutti e due così voi non avete problemi o no assolutamente prende tutti e due mette questo qui per andare in ufficio questo qua per andare nella fossa delle marianne uno è perfetto comunque no uno ci va al mare uno ci va in giacca e cravatta a postissimo comunque ci tenevamo anche a farveli vedere perché sono sostanzialmente due prodotti della stessa linea ma molto diversi perché qui abbiamo un diver professionale che abbiamo un orologio più classico anche se comunque moderno due materiali diversi insomma ci sarà tanto di cui parlare ovviamente io ho già scelto il mio preferito il tuo luca lo so già qual è ve li diciamo comunque dopo adesso io gli facciamo vedere questi orologi bisogna prestarli da vicino questi qua bisogna guardare da vicino ma comunque venite a vedere dal vivo perché questi questi qua cioè non so se mi spiego qua adesso lo vedrete anche dalle immagini ma parla questa roba qui e cioè letteralmente ti parla quando c'erai a posto sono rimasto senza parole comunque vanno le ciance li facciamo vedere mai che si vola benissimo ragazzi partiamo in questo fantastico viaggio dalla scatola perché vi faccio vedere che dentro ci sono un bel po di cosine è una cosa molto positiva faccio la garanzia qui intanto abbiamo un bellissimo nato nell'altra parte eccolo il bracciale in titanio bracciale completo del suo ottimo sgancio rapido fantastica chiusura farfalla doppia deployant tutto quanto realizzato in titanio tutto quanto super pellicolato come piace a me tantissimissima roba adesso vi faccio vedere anche il nato che risulta essere di grandissima qualità con anche due anse apposite per essere montato per conferire un look molto molto sbarazzino però adesso direi bando alle ciance andiamoci a vedere questo fantastico fagiolone ed eccolo qua partiamo con la versione nera defy extreme diver un orologio che si aspettava da tanto tempo zenit ritorna con prepotenza e cattiveria nel mondo dei diver lo fa con questo orologio realizzato interamente in titanio cinturino nato cinturino di gomma bracciale in titanio in dotazione sgancio rapido il movimento che vedete molto bello è il calibro è il primero 36 20 sc 36.000 alternanze 60 ore di riserva di carica l'orologio costa 11.800 euro diametro 42.5 60 atmosfere di impermeabilità la ghiera è ceramica è molto sottile realizzate in una maniera eccessa guardate la valvola elio e le scanalature della ghiera per essere ruotata molto bene fondella vista grazie al cielo per ammirare questo fantastico calibro cinturino in gomma dotato comunque di deploya realizzato in titanio quindi l'orologio costa ma hanno fatto un lavoro eccellente sotto ogni punto di vista il quadrante ve lo faccio vedere poi meglio da più vicino perché uno spettacolo assoluto presenza della data ad ore 3 corona ovviamente serrata vite con la stella zenith ora vi faccio vedere da più vicino il quadrante che risulta con indici applicati l'anello arancione di contorno presenza della data ad ore 3 il motivo è molto accurato ed è secondo me anche molto caratteristico qua vediamo invece il fondello in zaffero guardiamo un pochino meglio da vicino il movimento molto bella la massa oscillante a forma di stella fa sempre tantissima roba movimento anche più che discretamente decorato presenza di valvola elio come dicevo gioco sfera è molto importante molto grande molto leggibile orologio che registra 60 atmosfere quindi siamo già nella categoria mostri marini e lo fa con un design decisamente zenith un po mazinga z deve piacere a me personalmente fa impazzire sono grande amante di zenith sono grande amante dei dettagli che mette negli orologi così come guardate questo quadrante come risulta essere lavorato le tonalità di colore insomma è veramente un orologio che vale la pena andare ad osservare dal vivo vale la pena di essere contemplato insomma è approfondito anche se poi si decide di non acquistarlo perché è un oggetto attualmente nel panorama di oggi molto moderno secondo me che strizza anche l'occhio un filino all'heritage della casa devo dire che è molto performante non vedo l'ora di vedere anche la versione revival da 37 mm quindi zenith ha voluto di vedersi queste due anime questa qui modernissima e quella revival qui vi faccio vedere anche la versione in blu che è decisamente bellissima abbiamo lo stesso identico orologio cambia sostanzialmente il colore il prezzo è il medesimo qui abbiamo una versione più estiva anche se io personalmente ritengo che l'arancione stia benissimo con quella che è la colorazione nera molto di più che con il blu però questo chiama decisamente tanto l'estate interessantissimo gioco di colore che spero riusciate ad apprezzare di quello che è il quadrante ora ve le metto a confronto blu più garbato nero veramente veramente cattivo un orologio assolutissimamente tostissimo la cassa è realizzata interamente in titanio ma così come tutto l'orologio guardate anche qui dalla vista frontale ora ve l'inclino un pochino tutte le angolazioni biselli le transizioni di questa cassa le spallette anche proteggi corona che vedete bene qui dall'alto come vanno a modellare la forma della cassa credetemi non è assolutamente facile lavorare il titanio a questi livelli anse proteggi corona che comunque risultano abitate non è assolutamente facile ottenere tutti questi spigoli questi giochi di luce tra superfici satinate e lucide c'è un grande impegno una grande ingegnerizzazione oltretutto anche la ghiera guardate dove c'è il grip insomma è stato fatto un lavoro davvero davvero certosino mi ha lasciato a bocca aperta a questo punto però io per dovere di cronaca per onestà con 11.800 euro zenith propone anche questo defy che non è un defy diver è un defy skeleton ha un movimento che è 3620 quindi è lo stesso movimento della versione extreme diver senza sc quindi alla riserva di carica a 55 ore è un modello di calibro molto simile ma con alcune differenze sempre 36.000 alternanze sempre 11.800 euro diametro 41 10 atmosfere di impermeabilità indicatore a un decimo di secondo ad ore 6 quindi la sostanziale differenza è quella abbiamo la seconda centrale in quella che è i secondi centrali scusate in quello che è l'extreme diver abbiamo la secondina d'ore 6 con l'indicazione del decimo di secondo per quello che lo scarica due orologi che hanno lo stesso listino due orologi entrambi della linea defy due anime completamente diverse diver estremo dall'altra parte invece un oggetto moderno tecnologico ma che si può indossare tranquillamente tutti i giorni anche come daily watch realizzato in acciaio e non in titanio anche qui grandissima qualità delle lavorazioni per quello che riguarda la cassa ma soprattutto per quello che riguarda movimenti quadranti che sono scheletrati quindi sostanzialmente il quadrante mostra tutto quello che è il movimento che risulta essere blu in questo caso nella versione nera vedremo poi risulta essere che lo vediamo subito nero anche il movimento quindi anche qui c'è grande cura grande ricerca di quelli che sono i dettagli anche qui abbiamo un orologio che presenta lo sgancio rapido di quello che può essere il bracciale un orologio sul quale possibile installare anche cinturino in gomma quindi oggetto veramente versatile 10 bar di impermeabilità permettono di fare comunque tutto ma è chiaro che se si vuole spingere al massimo c'è l'extreme diver quindi vedete al confronto si nota la somiglianza l'anima e la stessa il cuore pulsante è molto simile però e qui c'è un bel però sono due oggetti completamente diversi che hanno in comune anche il destino per chi decide se stare sullo sportivone al massimo su un orologio come questo decisamente più versatile in ogni caso sono belli da matti ve li faccio vedere indossati sul mio polso da 19 cm guardate qui un 41 che veste come un guanto bracciale integrato colorazione nera veramente versatile all'ennesima potenza orologio secondo me bellissimo molto equilibrato al polso si sente la pesantezza dell'acciaio quindi anche sicuramente di presenza a me è piaciuto moltissimo questo tratto distintivo gran lavoro da parte di Zenf continuiamo con l'extreme diver qui abbiamo un orologio molto leggero in questo caso con la gomma non si sente al polso nonostante le dimensioni siano generose ma ragazzi siamo davanti a un 60 atmosfere 42 mm e mezzo secondo me sono assolutamente giustificati orologio bellissimo adesso però abbiamo fatto un esperimento io e Luca perché siamo due cavalli golosi e allora abbiamo messo i cinturini in gomma dell'extreme diver sul defy skeleton e devo dire che ne esce un risultato non male affatto perché dona un tocco di sportività in più ad un orologio che non è poi così sportivo se ci pensate bene comunque adesso torniamo per quelle che sono le conclusioni grandissime ed eccoci tornati grandissimi intanto non capisco perché nessuno di voi nei commenti non mi ha scritto che mi si vedono tutti questi capelli bianchi quando sono mi sembro il nonno di Luca qua in quando siamo uno di fianco all'altro non ridere Luca comunque vado alle ciance qual è il tuo preferito? io lo suggerisco allora sì nonostante la novità e finalmente possiamo accostare il nome diver al Zenit però io vado sul classico anche se in realtà è moderno e sportivo il defy scheletrato col colorante blu il colorante blu è tanta roba ricordiamo che hai scelto ovviamente il blu perché mi piaci tu puoi dirlo forte io ragazzi a parte che avete anche visto il cinturino di questo su quello che viene un bel mix viene una cosa interessante perché lo snatura un po' lo rende un po' più frizzantino e tanta roba no io scelgo questo io scelgo questo perché mi piace un casino mi piace tantissimo il colore nero arancione sono una coppia stellare questo è un prodotto fresco moderno robusto con i muscoli innovativo estremamente riconoscibile e comincio ad avere una certa passione per la roba tosta e soprattutto oggi si può utilizzare anche la parola versatilità perché comunque vengono venduti con tre cinturini questa è una cosa molto importante perché tante volte soprattutto ricordiamo che questo qui è un oggetto che costa poi il giusto insomma parliamo di un orologio che ha un certo listino che ha un nome importante ed è molto apprezzabile che dentro in confezione così non si toglie tutti i dubbi abbia il suo bracciale abbia il suo cinturino in gomma abbia il suo nato con ovviamente le handset dedicate per poterlo installare è secondo me un bel passo in avanti ed è molto positivo per quello che mi riguarda perché realmente avete un prodotto che potete può diventare tre ma già tutto assieme quindi non c'è più da dire ma Luca sai ti prendo l'orologio ma ora ti dammi magari il bracciale ma vorrei vederlo con il cinturino però ce l'ho solo qua c'è tutto e vista ripeto la fascia di prezzo secondo me hanno fatto una gran bella mossa perché sono cose che fanno piacere benissimo ragazzi io vi invito a venire a San Marino trovate Luca anche nel gruppo lo trovate dappertutto chiedetegli foto sono orologi bellissimi io chiederò adesso ovviamente a Pedro quale sarà il suo preferito ovviamente sarà lo stesso mio ma perché è nero però c'è neanche un altro nero che è lo scheletrato che chissà come sempre è stato un piacere iscrivetevi al canale venite a fare un giro a San Marino che si sta benissimo poi si sta a San Marino poi in questi giorni c'è anche un po' d'aria c'è anche un po' di sicuro c'è più aria che a casa mia che sono in un buco c'è un'altra aria da me diciamo rispetto a qua qua si sta molto bene approvatissimo come sempre è stato un piacere grandissimi e mi raccomando iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao eccoci qua grandissimi Pedrone oggi ho un pochino bacchiato perché si è fatto male a uno zampino invece no e invece no è sempre una bestia eccoci qua grandissimi si è fatto male a uno zampino però è già informissima volevo comunque rincuorarvi tutti quanti che saremo in pista al più presto come sempre è stato un piacere ciao grandissimi